Sottoscritto l'accordo istituzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le due regioni, Abruzzo e Marche, utile alla realizzazione del ponte ciclopedonale tra le due sponde del fiume Tronto. Un percorso tracciato da alcuni anni che ora diventa esecutivo, con la realizzazione dell'opera che sarà curata dal provveditorato interregionale delle opere pubbliche di Ancona. Dunque per la realizzazione del ponte sul Tronto per pedoni ciclisti è prossima ad entrare nella fase attuativa. Per l'inizio dei lavori bisognerà attendere ancora il completamento dello studio di fattibita e della progettazione definitiva. Abbiamo firmato la convenzione con il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona per la progettazione e la fase esecutiva della realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto. Un investimento di 2.200.000 euro, 1.100.000 per quanto riguarda Regione Abruzzo, 1.100.000 Regione Marche. Un accordo fondamentale grazie alla collaborazione di tanti, delle amministrazioni comunali di Martinsicuro e San Benedetto, delle due amministrazioni provinciali, ma soprattutto con Regione Marche. Voglio ringraziare il Vice Presidente Anna Casini con la quale abbiamo collaborato con concretezza in questi anni, a partire dall'area di crisi complessa e soprattutto per quanto riguarda il ponte ciclopedonale sul Tronto. Nei prossimi due anni quest'opera probabilmente sarà realizzata, ma ci sono delle basi solide, soprattutto gli stanziamenti e le risorse finanziarie necessarie. Abbiamo investito molto sulle ciclovie in questi anni, lungo tutta la dorsale adriatica, ma anche con le piste a pettine verso l'interno, lungo le aste fluriali in maniera particolare. Questa infrastruttura si inserisce nell'ambito della ciclovia adriatica e quindi che unisce il nord e il sud Italia. Abbiamo investito molto e questo ponte rappresenta un'opera strategica dal punto di vista turistico, ma non solo.